Ci chiamano geek, nerd, stravaganti, strambi, diversi. Siamo pazzi di futuro, amanti della scienza, creativi, con mille idee. Ci immergiamo nelle storie con un pad in mano, con una connessione attiva. Vogliamo creare prodotti, servizi, aziende, visioni che possano cambiare il mondo. Noi siamo quelli delle passioni forti, dei pensieri disruptive, eclettici, complessi, umani. E adesso che la parola diverso scatena conflitti, noi non abbiamo paura. Noi non abbiamo paura di diventare diversi da ciò che siamo stati, da ciò che siamo. Saremo diversi da oggi, diventeremo upgrade di noi stessi. Diventerò la versione migliore di me. Noi non abbiamo paura di diventare diversi da noi.